I risultati elettorali delle ultime amministrative in Abruzzo hanno contribuito a ridisegnare gli equilibri politici tra i partiti della coalizione di maggioranza in regione, definendo nuove forze di potere sull'otto volante amministrativo dove c'è chi scende e c'è chi sale con lascia passare del gradimento elettorale. In questo gioco di contrappesi ad assestarsi è anche il sistema dello spoil system, il modello di selezione dei vertici amministrativi su base fiduciaria della politica. Ed è proprio per trovare la quadra tra le richieste dei partiti che in mattinata, presso la sede di Forza Italia Pescara, si è tenuto il secondo vertice di maggioranza per stabilire le quote spettanti agli alleati di coalizione nella scelta delle dirigenze in scadenza. Tra i vertici in discussione, stando ad alcune indiscrezioni, in primis ci sarebbe la Saga, la società che gestisce i servizi aeroportuali, attualmente in capo a Vittorio Catone in quota Lega, che con la perdita di consensi elettorali, potrebbe essere chiamata a fare un passo indietro nei presidi amministrativi gestiti dal carroccio negli anni passati. Una questione sulla quale hanno scelto di non parlare i due coordinatori regionali di Fratelli d'Italia e Lega, Etel Sigismondi e Luigi Deramo, che questa mattina hanno presenziato il vertice di maggioranza insieme ad altri esponenti di partito e a Nazario Pagano, deputato e coordinatore regionale di Forza Italia, che al Tg8 dichiara I pesi all'interno della coalizione sono mutati, è ovvio quindi che bisogna rinnovare la classe dirigente di alcuni enti per la nostra regione, adesso dovremo segnalare le figure più appropriate, quelle che hanno le competenze migliori e ovviamente i suggerimenti dipenderanno soprattutto dall'esito delle elezioni. Quali sono le dirigenze in discussione in questo momento? Per adesso sono soltanto in spoil system quelle, diciamo, di nomina del consiglio regionale, quindi le ATER che sono appunto le aziende che si occupano di abitazioni popolari, le ADSU che sono le aziende di diritto allo studio universitario, l'Arap che è l'ente che nasce dalla riunione dei consorzi industriali, i consorzi di bonifica, insomma sono quelle che sono andate in spoil system. Poi esistono altri enti che sono delle società per azioni che quindi sono scollegate, diciamo, dal consiglio regionale, le indicazioni toccano la giunta regionale, quelle non scadono adesso, bisognerà discuterne quando scadranno. Alcune indiscrezioni dicono che è uno dei primi vertici, insomma, da risistemare quello della saga. Non lo so, anche perché la saga rientra proprio fra gli enti, diciamo, di competenza della giunta regionale, sono voci che cercano di cui io non sono a conoscenza. La Lega sembra essere uno dei partiti degli alleati all'interno della coalizione che, insomma, dovrà rinunciare ad alcune cariche proprio in vista di quelle che sono state le preferenze elettorali. La Lega ebbe un risultato straordinario cinque anni fa e quindi era giusto che facesse sentire la propria voce più delle altre formazioni politiche che compongono la coalizione. Adesso i pesi, gli orientamenti elettorali sono mutati e io penso, ed è questa la linea di Forza Italia, che noi dobbiamo innanzitutto indicare figure capaci, competenti.